Buongiorno, benvenuti alla Sedia Stappa di oggi, sabato 10 giugno. Vi dico subito intanto le notizie importanti. Domani Matrix torna per uno speciale sulle elezioni amministrative. Oggi mi sembra che sia libero, anzi la verità, dire si vota, 9 milioni di persone domani votano, mille comuni, ma mi sembra che non sia un grande tema sui giornali in Italia. Anzi, non lo è per niente, sembra che sia delle elezioni amministrative così all'acqua di rosa, non ce ne frega niente di questa amministrativa, eppure domani si vota. Matrix domani vi racconterà come andranno. Quali sono i temi dei giornali di oggi? Insomma, se non è divertente raccontare l'annuncio del fatto che domani si vada a votare in paesi importanti, da Genova a Trapani, a Palermo, a Lodi, dove c'è il mio amico Maggi che si candida, anzi se siete a Lodi mi raccomando è un grande liberale, uno dei pochi liberali che ha letto Hayek che si candida, insomma abbiato lui che ha voglia di candidarsi. Se non vi fate parte di queste città e non vi siete annoiati a leggere queste storie, che peraltro oggi non ci sono i suoi giornali, vi annoierete certamente su tutto quello che è successo dopo il grande tradimento della legge elettorale Tedeskellum che avrebbe dovuto portare a un accordo tra PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Quella legge è morta perché c'è stato un inciampo parlamentare sull'emendamento fatto da Genio Biancofiore, cioè una parlamentare di Forza Italia che grazie a questa specie di cavallo di Troia ha fatto sì che saltasse tutto l'impianto, che secondo me poi alla fine avvantaggiava soprattutto Berlusconi da tutti e quattro i contendenti, ma vabbè lasciamo perdere tutta questa vicenda, oggi parlano alcuni protagonisti. Sul Corriere della Sera soprattutto intervista a Renzi e intervista a Di Maio. Renzi dice andiamo avanti adesso per un anno, io sì ci avrei tenuto a votare ma chi se ne frega non sono responsabile, quindi andiamo avanti ancora per un anno fino a maggio 2018, allora prima si diceva che si doveva votare a febbraio 2018 quando era la fine della legislatura, adesso tre mesi dopo la fine della legislatura, vorrei vedere che cosa dicono i porca puttana di mercati che si chiama democrazia, cioè che se finisce una legislatura non stiamo un mese, due mesi in più con i vecchi parlamentari pagati da noi, no, si va alle elezioni, le elezioni in una democrazia sono il sale di una democrazia, non lo spavento di una democrazia, ma comunque si voterà addirittura due mesi dopo la fine naturale della legislatura. Dice a questo punto però Renzi che uniti con Pisapia potranno raggiungere il 40%, poi sul Movimento 5 Stelle dice una parte dell'establishment li liscia, senti chi parla, se io fossi Renzi penserei all'establishment che ha lisciato lui più che una parte che sta lisciando il Movimento 5 Stelle, ma comunque la cosa che mi diverte di più appunto è questa idea che adesso, che coglie perfettamente Luca Telese sulla verità, che Renzi adesso torna in ginocchio a chiedere scuse ai comunisti, alla Camusso, a Erodotà, ai D'Alema, ai Bersani, ai Fassino, a tutto quel mondo di sinistra che con il vecchio sistema Tedescherlum voleva tenere sotto il 5% e mandare a quel paese, adesso dice Telese, torna in ginocchio da loro, tant'è che Pisapia oggi su Repubblica dice a Renzi, beh facciamo le primarie e decidiamo chi è il candidato premier della sinistra, cose di interesse per voi, per me e per il paese, zero, non che sia più interessante l'intervista di Di Maio, l'altro vicepresidente della Camera, anche egli considerato sconfitto dal fatto che non è passata la legge elettorale, la sua intervista se volete è ancora più inutile di quella di Renzi, perché quella di Renzi qualche cosa dice, quella di Di Maio dice solo una cosa, è che il PD a non aver retto al primo incidente parlamentare l'accordo con il Movimento 5 Stelle, bastava vedere, dice Di Maio, la faccia di Rosato, il capogruppo del PD, quando ha visto che c'erano alcuni franchi diratori anche nel PD e il fatto che non si rendessero conto di quello che era successo, intervista a Doninelli, se volete avere un po' di retroscena sul giorno dopo, sul dopo partita riguardo al fatto che si è saltato l'accordone parlamentare, oggi sui giornali c'è, ma io vi invito a non farlo, non lo leggete, è una rottura di balle mostruosa, non c'è nulla che possa interessare un essere umano consensiente, scusatemi con un po' di intelligenza, è una rottura di scala, non c'è il giallo, non ci sono i personaggi, non c'è la trama, non c'è il futuro e non c'è l'affidabilità, non li leggete, lasciate le pede, le prime 5-6 pagine dei giornali che potete evitarvi, l'unica cosa divertente forse è il telese che dice come Renzi debba ritornare in ginocchio dalla sinistra. Oggi esce la notizia del boss Graviano che intercettato in carcere dice, non avrebbe detto, dice che Berlusconi sarebbe uno dei mentanti delle stragi del periodo del 92 e del 94, non è la prima volta che accusano Berlusconi di questa cosa, per ben due volte, per Tito Spatuzza, Ciancimino, gente affidabile, zero quanto Graviano, sono stati archiviati, però ovviamente hanno sputtanato il Cavaliere, c'è sempre questa idea Cavaliere, mafia che avrebbe aiutato la sua discesa in campo, non si capisce perché il fatto di fare delle stragi avrebbe aiutato il Cavaliere a vincere le elezioni del 94. Minchiata, minchiata, questa minchiata ritorna, tant'è che oggi, forse perché il Cavaliere ha 80 anni e non ha più il peso politico di un tempo, la stessa Repubblica con Bolsoni dice, guardate che Graviano sapeva di essere intercettato, così come Rina sapeva di essere intercettato quando disse le cose su Di Matteo, Saviano e, scusate Saviano, Bolsoni su Repubblica dice, guardate che si tratta di minchiate, non c'entra nulla Berlusconi, l'hanno già archiviato due volte, la stessa Repubblica dice che è una stupidagge, ovviamente Travaglio invece dice che queste sono materie di cui il nuovo direttore generale della RAI Orfeo non si occuperà perché Orfeo è amico di Berlusconi e di Renzi e non parlerà di queste cose, vedremo. Certo è che chi la cucina meglio questa storia è Sallusti, oggi sul giornale che dice mafiellum, cioè il sistema elettorale che vorrebbero i magistrati è questo, cioè quello di sputtanare un po' i personaggi politici con dichiarazioni ad occhio che poi vanno a finire in nulla. Ha ragione assolutamente devo dire oggi Sallusti perché dice questa bombetta orologeria, pensate un po' voi se avesse retto il patto tra i quattro partiti, come avrebbe reso difficile per il Movimento 5 Stelle per il PD fare un'alleanza con Berlusconi sulla legge elettorale quando un boss dice che Berlusconi sarebbe stato il capo, il mandante della mafia. Evidentemente la bomba orologeria è scoppiata nel momento sbagliato perché già quel patto era due giorni fa saltato e suggestiva e interessante come sempre l'analisi di Sallusti. Stupenda la questione del capitano Scarfato che ricorda oggi il giornale quel capitano del Noe che aveva addirittura detto al suo sottoposto di cambiare e di attribuire le parole di un'intercettazione sul fatto che il papà di Renzi si fosse visto con Romeo, cioè quel capitano non è che si è sbagliato, ha preteso che il suo sottoposto sbagliasse nel verbale, questa è una cosa gravissima e oggi il giornale lo ricorda perché la stesso Marco Lillo ieri onestamente sul fatto ha dovuto chiedere scusa dicendo che se queste sono le cose questo capitano del Noe è un delinquente, lo è, io sono e ci sono passato per il Noe e so benissimo come i tagliuzzamenti, gli spezzettamenti siano gravi, ma qui c'è un fatto in più, non hanno tagliuzzato e hanno spezzettato, hanno attribuito frasi che non esistevano a persone che non esistevano, una cosa gravissima, gravissima, il caso Consi, Renzi, figurateli a me se mi sta simpatico Renzi, però voglio dire io se fossi Renzi e il padre di Renzi farei un casino pazzesco per lo sputtanamento e il fango che gli hanno tirato addosso questi carabinieri del Noe con la complicità evidentemente di Woodcock. La Orlandia è una storia stupenda, è la peggiore guida dell'Agenzia delle Entrate degli ultimi anni, quella signora che ha guidato l'Agenzia delle Entrate viene sostituita da Ruffini che è stato uno dei migliori invece capi di Equitalia negli ultimi anni e sapete che cosa fa? Due giorni prima di essere sostituita in un comitato a sei, lei è ancora Presidente dell'Agenzia delle Entrate e si nomina Vice Presidente dell'Agenzia delle Entrate. Io la trovo una cosa straordinaria, ti hanno appena fatto fuori, cosa che si può fare per i dirigenti in Italia e lei nel comitato interno si nomina capo di un altro ufficio e rimane lì all'interno del grande ufficio. Io dico se questa è una cosa normale in un paese normale, che quella viene fatta fuori, come ci sta che la politica possa decidere chi sia il numero uno di un posto dedicato come l'Agenzia dell'Agenzia delle Entrate, lei rimane e si autonomina in un posto interno. Io la trovo una cosa fantastica, senza avvisare di questa nomina il suo successore che è Ruffini. Tutti godono che la May ha perso perché la May non è Macron, la May è di destra, la May è liberale, la May è conservatrice, la May è anti-europeista, quello che oggi leggete sui giornali è comunque che ci sarà un Brexit meno dura perché la May avrà meno voti nella Camera bassa inglese, con i suoi seggi non avrà la maggioranza assoluta, ma comunque alla May non è Macron, non piace, non è fighetta. Dai, l'ultima cosa, che cosa c'è? Niente, i giovani imprenditori si arrabbiano perché sono in questo momento in assemblea a Rapallo, sapete che fanno ogni anno un paio di incontri a Rapallo, si arrabbiano perché la politica non va di loro ma parlerà a casaleggio e poi io lo sapete, cito raramente, però se avete voglia a proposito di imprenditori non giovani che mi sembrano un po' più smart dei vecchi, il fatto scandaloso dell'ILVA, i creditori dell'ILVA avranno solo il 3% dei crediti che loro hanno dato all'ILVA, quindi hanno dato forniture di materiali, di cibo, di servizi, di consulenze per 2 miliardi e mezzo di euro avranno invece dei 2 miliardi e mezzo di euro dopo anni e anni 70 milioni perché tutti i soldi andranno allo Stato, alle banche, ai commissari, ai consulenti e ai crediti diciamo di quelli che comandano. Va bene Anna e alla RAI abbiamo Orfeo, di questo ne parleremo nei prossimi giorni, vedremo come si comporterà Orfeo dalle sue prime nomine, dai suoi primi atteggiamenti si capirà, una cosa che i giornali oggi raccontano è che già c'è un casino bestiale perché la Maggioni, presidente del Consiglio di Amministrazione, tutto voleva come suo amministratore delegato, direttore generale, tutto voleva tranne Orfeo, Maggioni Orfeo, scintille nei prossimi mesi, citava oggi mi sembra un giornale informato e così sarà, fatevelo dire, da chi ha ancora un po' di amici all'interno della RAI. Un saluto, vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e noi ci vediamo forse più tardi ma direi sicuramente domani. Ciao!